Una volta la mia psicologa mi ha detto, nessuno ti sta chiedendo di essere perfetta, allora perché tu lo chiedi a te stessa? Nessuno ti chiede di avere tutte le risposte o di avere sempre tutto sotto controllo. Nessuno ti chiede di non commettere errori o di sorridere per tutto il tempo. Nessuno ti chiede di incantare chiunque incontri. Nessuno ti chiede di avere il fisico perfetto o di dire sempre la cosa giusta o di svegliarti sempre grata. Nessuno chiede a nessun altro di essere perfetto, allora perché tu lo pretendi da te stessa? Cicerone ci insegna che nella vita gli ostacoli più grandi che possiamo incontrare nel nostro cammino siamo noi stessi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.